La sporcizia era tanta e gli stessi altri operatori, i vigili del fuoco e gli altri che sono intervenuti hanno usato diciamo mezzi di... al di là della tuta che avevamo anche noi, delle tute usa e getta però c'era la necessità di mascherina. Viveva nel degrado tra cani, gatti, pappagalli e tartarughe all'interno di un appartamento in via Vittorio Veneto ad Arezzo. Una realtà raccapricciante, quella che si sono trovati di fronte ieri carabinieri, vigili del fuoco, personale asle e volontari EMPA. Purtroppo da vari mesi sicuramente l'abitazione non veniva pulita. Ma le condizioni in cui viveva l'uomo sono unicamente un risvolto di una realtà drammatica ben più ampia e per la quale è finito in manette un 28enne accusato di estorsione nei confronti della madre e detenzione abusiva di armi. L'uomo, infatti, dopo essersi trasferito sette anni fa ad Arezzo, chiedeva sempre più insistentemente denaro alla mamma. Ultimamente, addirittura dopo un rifiuto, era arrivato a minacciarla di morte. I carabinieri di Arezzo, dopo le indagini dei colleghi di Brugherio, hanno trasferito il giovane in carcere su ordinanza del GIP di Monza. Il ragazzo è stato trovato ieri all'interno della sua abitazione. Nella casa erano presenti anche varie armi, come una balestra con dardi, tre catani, un pugnale ed una pissola d'aria compressa. I tre cani trovati all'interno dell'appartamento sono stati affidati alla fidanzata del giovane, mentre un pappagallo e due gatti sono stati presi in cura dall'empa. Nell'appartamento sarebbero rimasti altri gatti. Purtroppo in quella situazione non si trovavano e ne abbiamo presi solo alcuni di quelli che ci aveva detto la persona.